Siamo con Federico Naci, centrocampista dell'Eco qualche giorno prima della partita importantissima contro Gianna Erminio, una delle due squadre che ha meno punti dei blu celesti. Bisogna vincere, questo è l'imperativo? Sì, come hai detto te lo sappiamo benissimo, siamo consapevoli che è una partita più che importante, questa settimana stiamo lavorando nel miglior modo possibile anche perché abbiamo avuto un giorno in più con il fatto che è stata annullata la partita col Ponte d'Era, rinviata, quindi prendiamo tutto in modo positivo e affrontiamo la settimana nel miglior modo possibile per arrivare sabato più che pronti. Come sta la squadra? Siete pronti ad affrontare le partite che vi aspettano anche dopo il rinvio di Ponte d'Era? Sì, certo, assolutamente, come ho detto prima siamo tutti consapevoli, quindi ognuno di noi sa quello che deve fare, cerchiamo di fare il meglio possibile quello che chiede il mister e entriamo in campo con la consapevolezza di fare punti e far bene. Secondo te questo rinvio peserà sulla partita contro Ponte d'Era ma anche sulle prossime? Penso di no perché comunque abbiamo avuto un giorno di lavoro in più e questo ci permette di prepararci ancora di più e penso che sia comunque una cosa positiva. Adesso aspettiamo la data del recupero e quando sapremo le date ci prepareremo anche al meglio per il Ponte d'Era ma comunque penso che sia una cosa positiva. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno. Parliamo un po' di te, in questo nuovo centrocampo dove pensi di poter dare il meglio? Ma adesso il mister sta provando il centrocampo a due. È comunque un ruolo in cui devi spendere tanto di energia e fare tutte e due le fasi sia offensive che difensive. Non è come giocare in un centrocampo a tre perché le forze sono minime rispetto a un centrocampo a tre però stiamo lavorando bene e cerchiamo di apprendere quello che ci insegna il mister. Penso comunque di fare un ruolo positivo e imparare molto dal mister che è stato uno dei centrocampisti più forti quindi ci può insegnare molto. Grazie.